Buonasera a tutti, grazie per questo invito e adesso cerco di condividere la mia presentazione. Ecco, a me spetta l'onore di aprire le danze con un titolo un po' altisonante e siccome l'ho proposto io due mesi fa non posso che pentirmene con me stesso, però cercherò di fare del mio meglio. Emergenze climatiche ed epidemiche, soprattutto con un occhio di attenzione a eventuali considerazioni che possiamo fare tutti su malattie non necessariamente di piante e imparare dagli alberi. Cosa significa questo imparare dagli alberi? Cercheremo di ragionarci fra qualche minuto. Io vorrei partire con una informazione vecchia di due giorni. Quasi mezzo milione di alberi infetti nelle isole Aran, sono nella parte occidentale dell'Irlanda, sono destinati a essere tagliati. Centinaia di migliaia di larici. Questa è una foto del paesaggio che vedete e chiaramente questi alberi saranno tagliati perché si è diffusa in modo epidemico un parassita microscopico, un omicete, si chiama Phytophthora ramorum, e ha infettato questi larici coltivati per la produzione di legname. Solo che succede una cosa, e qui parliamo di spillover, una parola con la quale abbiamo cominciato a prendere confidenza ormai da marzo scorso. Questo parassita di larici, o meglio di querce, si è spostato molto velocemente dall'Asia, agli Stati Uniti e all'Europa, pur essendo privo di gambe, di ali, di pinne, ma semplicemente perché non si è spostato. L'abbiamo spostato, arrivato da noi, molto velocemente, ha trovato modo di trovare ospitalità su un elenco lunghissimo di specie vegetali, arbore, arbustive, anche erbacee, e quelle che vediamo qui elencate sono solo quelle che iniziano con la A. Quindi sono centinaia. C'è un passaggio di specie molto rapido di un parassita di querce asiatiche che è stato importato. Si è mosso perché abbiamo mosso materiale vivaistico, perché noi siamo fortemente affezionati al fatto di essere i primi ad avere nel nostro giardino, culturalmente siamo affezionati all'idea di avere qualcosa di esotico, qualcosa che possa stupire il nostro vicino. Può essere il giardino privato, ma può essere anche semplicemente una municipalità rispetto a un'altra. E qui vedete quindi le principali specie arboree, larici, abeti, querce, faggi, castagno, ippocastano, le principali. E questo è il problema classico delle monoculture. Potrebbe essere una monocultura di larici, di platani lungo un viale stradale, di pecore in un ovile, di uomini in una città. Non cambia molto. In agricoltura però l'idea della monocultura è quella classica che ci deriva da quando tutti quanti abitavamo in Mesopotamia. Poca spesa, tanta resa l'ho chiamata. Cioè io coltivo solo quello che mi rende di più, ad esempio frumento e non tutto il resto, ad esempio larice e non tutto il resto, perché ho la migliore redditività, la migliore velocità di accrescimento, però mi assumo un alto rischio. Esattamente come una persona che investe tutto il suo capitale nelle azioni di una sola azienda. E voi direte, ma questo succede in Irlanda? Tutte queste foto sono fatte a meno di 100 chilometri da casa mia, Padova. In alto abbiamo una piantagione, in alto a sinistra una piantagione di quello che sarà un bosco periurbano. In centro una piantagione di quello che sarà un imboschimento di una parte prativa limitrofa, un bosco. Quella in alto, si riconosce molto bene il tronco di un pino, è stata scattata in provincia di Ferrara. Quegli alberi allineati in basso a sinistra ci dicono sicuramente della piantagione artificiale. Provate a immaginare, a cambiare proporzioni e assomigliano esattamente a una fila di piante di mais o di frumento. Ben poco cambia, così come questa monocoltura di abete rosso che vedete nella foto più grande. Noi ormai diamo per scontata la monocoltura perché, giusto o sbagliato che sia, veniamo da una cultura di agricoltori. Solo che le malattie cambiano il corso della storia, malattie e clima cambiano il corso della storia molto velocemente. In quella stessa Irlanda della quale vi ho parlato, in merito a Phytophthora Ramorum, che sta uccidendo i larici, e quando avrà finito quei larici passerà ad altre specie arboree o arbustive o erbacee, quella stessa Phytophthora, una specie diversa, ma pur sempre appartenente del stesso genere, è quella responsabile della grande fama in Irlanda, che ha cambiato la storia non solo degli irlandesi, con una potente immigrazione, semplicemente perché grossomodo nel 1500 i conquistatori spagnoli hanno importato dal Peru la patata, che veniva coltivata dal 3000 a.C., per un po' di secoli, un paio di secoli, veniva coltivata nei giardini perché produce dei bellissimi fiori bianchi, poi si è scoperto che mangiare i frutti ci si intossicava e si è scoperto che forse si potevano mangiare i tuberi. Questo grossomodo nel 1700, e là dove non si poteva coltivare frumento, si è cominciato a coltivare patate, monocoltura di cosa? Di carboidrati. Il fatto è sempre il solito però, una visione ecologica ci permette di apprezzare il fatto che anche le piante e i parassiti di piante cercano di spostarsi là dove la vita è più facile. La migrazione è tipica di qualsiasi organismo vivente, e anche non vivente, se volessimo parlare di virus, visto che va abbastanza di moda. E quando c'è competizione c'è migrazione. C'è migrazione che significa adeguamento a luoghi diversi, che significa climi diversi. Uno dei principali problemi che noi abbiamo come uomini è sempre questa visione antropocentrica, l'abitudine di curare l'effetto. Si seccano le piante, le piante cominciano a crescere troppo, troppo più, troppo scusate, più di quanto potevamo prevedere. Si cerca sempre di ridurre l'effetto indesiderato invece di riflettere sulle cause che hanno portato a questo. E vi porto un esempio che sono abituato a citare. Guardate, questo è un estratto di un articolo del 1969 in cui luminari americani consigliano di usare come disseccante naturale un parassita di querce. Questo è stato fatto e adesso abbiamo il problema che questo parassita di querce, che si chiama Ceratocestis vacacerum, è un parassita di quarantena, di temutissima introduzione perché se dovesse essere spostato dagli Stati Uniti all'Europa metterebbe a rischio tutte le specie quercine, ma non solo, e provate a immaginare l'Italia senza le specie quercine, dal leccio alla sugera alla farnia alla roverella e via discorrendo. E quindi come iniziare questo convegno? Parlando del fatto che la necessità di una prospettiva ecologica non si deve limitare a belle parole come sostenibilità e biodiversità. Sono parole ormai abusate. La sostenibilità e la biodiversità vanno ragionate. Aumentando il numero di specie in un parco urbano, aumentando il numero di specie sul nostro terrazzo, non aumentiamo la biodiversità, aumentiamo il numero di specie. Biodiversità è un concetto ecologico. Sostenibilità deve essere vista come una sostenibilità di lungo periodo. Cioè dobbiamo sempre considerare il rischio legato all'azione che noi compiamo. E il fatto è che molti cambiamenti climatici e le pandemie che derivano da questo sono indotti con una piena nostra consapevolezza. Il trasporto, la scelta di specie esotiche oppure di specie considerate autoctone, ma coltivate in luoghi esotici, molto spesso è legata alla convenienza economica in tutto questo. E qui vedete una nave container, ma io sto parlando semplicemente di camion che vengono spostati da una regione più a rischio di un'altra o da un paese, pur in area Schengen, più a rischio di altri. Per fortuna esiste una legislazione fitosanitaria molto attenta e precisa a livello europeo, ma purtroppo i parassiti sono microscopici. E allora cosa fare? Torniamo all'imparare dagli alberi. Cercare di assecondare le esigenze e le dinamiche di comunità delle piante. Noi dobbiamo imparare se vogliamo coltivare piante, se vogliamo crescere piante o lasciar crescere piante a lungo, quali sono le loro esigenze. E normalmente se noi vediamo cosa succede in natura, quasi mai vince la più forte, ma vince la più furba, la pianta che si sa adattare, che si sa adeguare. E qua ci sarebbe una considerazione, volendo da fare, in merito al nostro comportamento sul Covid, perché alla fine le epidemie sono tutte uguali, no? Grosso modo, in senso ecologico. Ecco, però non necessariamente la rincorsa all'albero più bello è vincente. Molto spesso la coltivazione di alberi robusti e facilmente adattabili a certi climi è molto più efficace. Guardate, questa è una faggetta del Bosco del Consiglio, coltivata, questa è assolutamente coltivata, ma coltivata con la discrezione di un tipo di servicoltura che è molto vicino alla naturalità. Qui abbiamo alberi che scelgono il come vivere e le malattie presenti sono del tutto accettabili in un sistema di questo tipo. Quanto più noi semplifichiamo il sistema, quanto più rendiamo il sistema uniforme per arrivare a situazioni limiti come la coltivazione di cloni, molto frequente in ambito urbano, tanto più singoli parassiti si possono spostare con grandissima facilità da un individuo all'altro perché geneticamente sono assolutamente identici. Altro punto, saper discriminare fra informazioni vere e informazioni verosimili. Il karaoke della pseudoscienza l'ho voluto chiamare. Vi riporto un paio di esempi solo, perché da questa schermata condivisa non vedo più l'orologio. Questa è la pagina italiana di Wikipedia. L'ho cercata ieri, come vedete, il 18 dell'11, e cercavo informazioni per questo incontro di oggi su ceratocistis fimbriata. L'agente letale del platano, l'agente causale di una malattia che viene chiamata cancro colorato del platano. Cosa leggiamo? A parole leggiamo tutte informazioni assolutamente corrette e dopo vediamo una sola immagine che dovrebbe rappresentarci le malattie. Peccato che quelli siano dei tuberi, no? Credo che sia patata dolce, ma senz'altro non è platano. Allora ho cambiato. Ho detto, beh, cerchiamo, cosa dice la pagina internazionale in inglese di Wikipedia sulla stessa parassita. Ed eccoci qui. È aggiornata perché ceratocistis fimbriata ha cambiato nome recentemente e ora si chiama ceratocistis platani, ma l'immagine che ci dà Wikipedia del sintomo tipico canker caused by ceratocistis platani è semplicemente una iperproduzione meristematica, non è sicuramente una malattia causata da questo parassita. Provate a immaginare, visto che esiste una normativa nazionale e anche internazionale di eradicazione, che significa distruzione di tutte le piante colpite, quante piante noi dovremmo distruggere se dovessimo pensare di doversi interessare a tutte le piante che presentano sintomi di questo tipo. Ma a cosa mi riferivo quando parlavo del karaoke? A questo evento, marzo 2018, io ero presente a questo congresso internazionale e quindi un professore universitario ha preso da Wikipedia la stessa identica immagine parlando di questa malattia. Quindi bisogna stare sempre molto attenti alla diffusione di informazioni. E poi vorrei accennarvi semplicemente alla popolarizzazione della diagnostica, visto che vogliamo parlare di malattie ed epidemie, la democrazia dei like. Vi faccio un solo esempio, ma io vi posso assicurare che raccolgo oramai qualche centinaio di schermate, sia da telefonino, sia da computer, di siti molto diversi, non necessariamente in italiano, di diagnosi fatte molto rapidamente. E qui vi riporto un esempio. Il 19 settembre un utente di questa piattaforma dice cos'è secondo voi? E molto velocemente qualcuno, molto allarmisticamente, dice delle sue cose, qualcuno dice un'infezione batterica entro i primi 13 minuti, qualcuno dice scalza il colletto in modo da liberarlo e poi fai tre trattamenti al colletto versando del fosetile alluminio ogni 15 giorni in attacco fungino. In tre ore di tempo, fatta la diagnosi, trovato il rimedio. E io credo proprio che questo non sia il problema parassitario di questa araucaria. Finché alla fine ci arriva al quarto giorno, non a ora e quarantesimo minuto, in cui assolutamente l'utente viene convinto. Riempi dei bottiglioni, fai un buco a terra, qui c'è tutta la procedura e l'utente dice grazie del consiglio, lo seguirò alla lettera. Ecco, la salute, la salvaguardia dei nostri alberi o degli alberi di qualcun altro, a seconda del fatto che siano pubblici o privati, passa attraverso necessariamente una conoscenza dettagliata, assolutamente dettagliata e non vale la regola del fatto, legata al fatto che chi urla più forte ha la verità. Altro aspetto importante che vorrei sottolineare è questo. Piantare tanto non serve a nulla se non si pianta bene. Piantare tanto sono capacità, tutti, basta avere i soldi per comprare tante piante, avere un po' di spazio dove piantarle. Bisogna vedere che fine faranno queste piante. Bisogna conoscere molto bene l'adattabilità di queste specie a quel luogo e la suscettibilità di queste specie a quelle malattie o non necessariamente malattie ma a fonti di deperimento di quelle piante. Saper differenziare il rischio mediante la disetaneità e la polispecificità, cioè imparare dagli alberi. Cosa fanno gli alberi quando sono in natura? In natura non esiste un lariceto monospecifico ecoetaneo come quello che vi ho mostrato nella prima immagine. Non esiste un bosco di abete rosso monospecifico ecoetaneo come quello che vi ho mostrato in qualche immagine successiva. Soprattutto bisogna prendere atto di queste banalità ecologiche nelle nostre città dove c'è sicuramente un elemento esotico che rende esotico il tutto che è l'ambiente urbano che è l'ambiente urbano perché il tipo di suolo il tipo di clima non sono senz'altro i migliori in assoluto per quella pianta qualsiasi essa sia che vogliamo scegliere perché quella pianta non è tipica di quell'ambiente urbano tant'è che noi pur di averla decidiamo di prenderla e trapiantarla in quel posto. Ecco che fare allora? Che fare? La responsabilità non può che essere collettiva e questo è senz'altro un pregio di questo incontro dove ci sono voci diverse che provengono da competenze esperienze e background diversi. bisogna assolutamente trovare un linguaggio nuovo che integri punti di vista diversi che possano portare a modalità gestionali di tipo collettivo dove la comunicazione è sicuramente fondamentale a ogni livello l'importante che questa sia corretta e vorrei chiudere con questa immagine che ben ci rappresenta il fatto che uno dei prossimi nostri destini come uomini urbani potrebbe essere questo se ne otteniamo in considerazione i tempi i ritmi le necessità le esigenze delle piante delle quali molto spesso ci vantiamo ma che ci restano pur sempre misconosciute nelle loro esigenze di lungo periodo. Grazie